Non c'è proprio motivo di polemica, è una polemica che non esiste più, è già finita. Perché nessun turista si è lamentato, abbiamo tra le tasse di soggiorno più bassa, abbiamo la necessità di far migliorare i servizi di ogni tipo, questi servizi vanno finanziati. Quindi non c'è nessuna polemica da fare, negli ultimi anni Napoli è prima per crescita culturale e turistica, credo che abbiamo mosso l'economia della città come mai si era mossa, c'è un lavoro enorme di tanti, quindi di tutto abbiamo bisogno tranne che di polemiche nulle che sono già rientrate, abbiamo dato le spiegazioni, volevano rassicurazione che questi soldi non andassero in altre direzioni, vanno esattamente laddove ci chiedono di fare di più e dove noi, certe volte anche non sempre supportati da tutti, facciamo il massimo, quindi eventi, cultura, turismo, decoro, arredo e qualità dei servizi.